Abbiamo qui Francesca Merloni, ambasciatrice UNESCO, che ha appena interpretato un brano dedicato proprio a Guelfo, quindi vorrei sapere insomma quali sono le sue impressioni in merito al museo e proprio in merito anche alla città. Allora, le mie impressioni sono entusiaste. Trovo questo museo uno spazio stupendo, realizzato benissimo, trovo veramente il posto di Guelfo ed era necessario che si facesse un posto di Guelfo a Fabriano perché è una persona potente, una persona che ha dato tanto tanto a noi, alla sua terra e un grandissimo artista. Quindi ringrazio Marisa che è stata la musa di Guelfo e anche la persona che l'ho amato e che continua nell'opera che lui ha iniziato. Quindi Marisa ha voluto questo museo, io la ringrazio a nome di tutti i fabrianesi. Portare delle cose così belle e renderne tutti partecipi è veramente un grande atto d'amore. Penso che Guelfo sia felicissimo a questo punto, siamo felici anche noi e quindi grazie a tutti.